Il primo aspetto da migliorare sicuramente è il rapporto tra società e pubblico. Pubblico che io intendo a 360 gradi, perché il valore aggiunto di Trieste da sempre è stato il pubblico, ma non un pubblico come un numero di persone che riempie il Palatrieste, bensì proprio come pubblico anche rivolto ai tifosi, i tifosi caldi, quelli che sostengono la squadra, quelli che quest'anno sono mancati. Perché? Perché c'è stata una difficoltà nella comunicazione, non si sono chiarite le parti all'inizio e c'è stato dopo questa triste prima emarginazione di tifosi più caldi e poi direttamente una presa di posizione dei tifosi e quindi un'assenza dal Palatrieste che ha reso lo stesso palazzetto una chiesa sostanzialmente, un coinvolgimento ridotto quasi al minimo e anche le stesse persone che riempivano il Palatrieste sentivano la mancanza quindi di un po' di calore. Così figuriamoci i giocatori che devono giocare. Quindi il rapporto col pubblico. Il rapporto col pubblico quindi tifosi più caldi, ma anche il resto della platea. Ricordiamoci che Trieste ha un bacino d'utenza cestistica molto ampio che non ci si può accontentare dello zoccolo duro delle 2000 presenze al Palatrieste ed essere contenti. C'è bisogno di portare altra gente. È possibile con il coinvolgimento. Quest'anno è stato fatto molto poco, è stato da tutti i punti di vista, per cui è migliorabile sicuramente questo aspetto. L'investimento sui giovani è stato fatto tanto, tantissimo forse. A livelli di risultati parliamo di una piena sufficienza per quel che riguarda le giovanili. Comuzzo e Pompeo stanno facendo un ottimo lavoro ed è questo da sottoscrivere e sottolineare. Però io sono dell'idea, tornando al discorso fatto precedentemente, che c'è bisogno anche e soprattutto di un investimento su singoli atleti molto giovani, come appunto si parla di Candussi, per avere un certo valore aggiunto futuribile, fare contratti priori anali e dopo trarre dei dividendi nel proseguio. Per far questo non si può scommettere solo sulle realtà locali, che sicuramente sono di valore, però sono degli interrogativi notevoli. Bisogna andare anche su quelle certezze, pur considerando che sono sempre giovanissimi, però sono già delle certezze a livello nazionale. Per cui la strada possibile che Matteo Boniccioli sta intraprendendo sulla scelta di investire, per esempio, su Candussi, mi trovo completamente d'accordo e può essere solo utile alla squadra e alla società. Ultima cosa e non ultima, il discorso della proprietà. Essere Presidente della Palacanesa Trieste 2004 non è prescritto da nessun medico, non è un dovere, ma è un onore. È un onore e soprattutto deve esserci la passione dietro. Roberto Di Piazza ha fatto tanto per la Palacanesa Trieste, però deve far di più. La presenza di un Presidente fondamentale, la passione di un Presidente fondamentale, quest'anno non si è visto quasi mai per la Trieste e la squadra anche di questo ne ha risentito. qualora gli impegni politici suoi e di Massimo Paniccia non possano dare la possibilità a questi due esponenti di essere alla Palacanesa Trieste e di supportare il progetto basket, è giusto delegare. È giusto delegare, non cade la corona a nessuno se uno delega a persone competenti a riguardo. Per cui l'importanza di essere presenti fisicamente anche oltre che a livello dialettico, intellettuale sulla questione Palacanesa è fondamentale. Che dire, probabilmente le trasmissioni con aperitivo Stocanestro si chiudono qua. Ci potrebbero essere delle parentesi, vi invito a seguire infatti sempre Boracom TV, poi ci potrebbero essere parentesi estive sul mercato, quasi alla memoria di Maurizio Mosca con le bombe di mercato che non saranno tante ma si può parlare anche di argomenti riguardanti la Palacanesa Trieste 2004. Vi faremo sapere appunto sia le date, i giorni e gli orari. Per quello che mi riguarda, che dire, i ringraziamenti a tutto lo staff di Boracom TV che ha avuto la pazienza di supportarmi in tutte queste puntate, sono più o meno una trentina di puntate, ringraziamento agli ospiti, non li cito tutti se no dimenticarei sicuro qualcuno e a tutti quelli che mi hanno seguito e ci hanno seguito. Promesse di solito non si fanno se non vengono mantenute, per cui l'unica promessa è dire che è una speranza, la speranza di rivederci con aperitivo Stocanestro in futuro. Intanto vi invito sempre a rimanere collegati per eventuali finestre in fase estiva. Un ringraziamento infinito da parte di Raffaele Baldini. Buonasera.